Salve a tutti ragazzi, benvenuti con una nuova parte di Lego 3, parte 9 o 4, nella scorsa parte abbiamo fatto la caccia con Diego, quindi è durata pochissima, ma in questa parte faremo un nuovo livello, continuare. Siccome aspettavano tutti il tuo arrivo, lui ha pensato che nessuno volesse più essere suo amico. Così ha deciso di andare a cercare qualche nuovo amico, ovunque fosse necessario andare. Non c'è niente di cui preoccuparsi, non so come fare amicizia. Oh, ecco il mio futuro brano. Ciao, ciao, ciao a te, amicizia perusetti. Ma che merda dici, eh? Bravo! Ok ragazzi, è qui comincia il film. C'è che cosa è il film? Il livello. Bene, dobbiamo uscire da quarta caverna. Perciò prima prendiamo quante pacche, se sa far ammalare i seed. Prima ragazzi dovete prendere il fuoco. E qui ragazzi è una cosa che... E qui ragazzi, il fuoco lo dovete prendere forza... ah sì, andiamo di qua. Forza, fatti avanti, sotto con le specie. Forza, dimmi, c'è qualcos'altro che potrebbe... No. Ecco qua, abbiamo una nuova vita. Adesso possiamo continuare il video. Andiamo un po', dov'è che si doveva salire. Ah, di qua. Vabbè ragazzi, se non avevate fuoco c'era... eh, una miniscena in cui si scappava dicendo... Aiuto! Ah, non ho capito. Perché però è il buio, sto qua. Potrebbe andare peggio, potrebbe essere energie con le caverne. Guardate a fare un bagno. Bene, ho le castagne. Come lancio, cioè come costi, così dicono. Ciao. Oh no! Uffa. Tornatelo su. Eccomi qua, adesso possiamo continuare. Ora consiglio. Mancato ragno, cattivo. Ciò, ciò, tanto. Vabbè. Oh! Che bug. Adesso voglio vedere se si può colpire questo. Ok. Oh, mi chiamiamo un po' stavano fuoco. Il coso è di metterlo, che se cazzo ci deve spegnere. Ah sì, ragazzi, ecco perché ha un fuoco. Bisogna che faccia il fuoco. Perché lì c'è il vento. Se veramente ci passate con il vento, lui vi spegne il fuoco. Perché come, beh, sapete tutti che il vento fa spegnere il fuoco. E si spegne. Ok. Un'altra. Vediamo se qui c'è. Ci sono ancora delle castagne. Anche qui non c'è più niente. Vai, ciò, ciò, tanto, così, insomma, ma che ragno ho. Andiamo avanti. Bruciamo questa ragnatella. E ora dov'è che si va? Credo che si passi di qua. Oh, sono i ragni. Oh, ma cazzo. Oh. Cercate di non cadere, altrimenti vi si spegne il fuoco. Eh, non credo che ci sia dell'altro. Più avanti. Ah, bene. Oh, beh, sì, i ragni vi possono intrapolarvi con quella ragnatella. Ma adesso io ho lì, vedi, 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 vedi. Vedi, vedi, vedi. Va, poi andiamo, non c'è altre. Eh, adesso andiamo da lassù. Ma prima prendiamo altre bacche che servono. Ok, ma ci sono anche i fistrelli. E' neanche buona le melle. Oh. Ho un'altra mela. Sì, è che si ovviamente qui ci vuole essere il checkpoint. Checkpoint. Ovviamente non è che se, beh, voi uscite da livello, fate tutto a capo. Se c'è il checkpoint potete ritornare a quel punto. Oh, di qua. No. Oh. Bene. Ora ragno, becchetti questo. Adesso andiamo avanti con rompere queste ragnatelle. Noio. Sì. Oh, ma la mia che sono fermato. Tra, due, uno. Via. Ovviamente se vi prende il fuoco ci arriverà. La scena che si cade. C'è che dice, aiuto. Ho capito. O cerchiamo di non cadere. Lì. Prima direi di ammazzarati qua che io ve... Sì. Oh. L'hai detto. Ok. 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 Non devo guardare in basso. E allora uccidiamo di qua. Attenti, ci useranno ciò, Sid. No. No, sono facile da uccidere. Dovete... Però è solo un salto. Che è setta? Così potete fare la taccamissaria. Va bene, andiamo. Allora, andiamo a fare l'equilibrio, non è la caduta e l'infatto. Oh, adesso è setto, un minuto. Vabbè, vediamo se qui in torno ci sono delle fragole, così potremmo rifrenire la vita. Benissimo. Andiamo. Di qua. Poi si fa il parkour, che è facilissimo. Sono sicuro che dietro ancora c'è qualcuno da tenere. Sì, chi? Chi? Uno sliderman, così ti uccide. Se ti vede. Ah! Andiamo, ragazzi, che bug. Il fuoco non si è spento. Ah! Muori. Ok, ora c'è un'altra scena. C'è l'eco. Oh, c'è l'eco. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Deve essere il vento. Oppure è un nostro Lederman Che se è sotto i vetri ti uccide E ti cucina i passi di bradipi Cioè, vabbè, non esiste un piatto In cui si uccide un bradipo Va benissimo Qui ci cercano il negozio Vediamo se potranno prendere ancora l'altra vita Benvenuto nel negozio Qualsiasi ha una missione di copia Benissimo Quattro è il massimo che possiamo raggiungere Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Ma allora, stiamo scherzando Che sette è con tutto Allora, cerchiamo di decidere Sta talpa che mi ha davvero rotto Cioè, queste talpe E comunque non potranno Credo che il poco bisogna tenerlo Perciò Perciò andiamo Adesso dobbiamo salire Evitando di cadere Adesso dobbiamo fare tutto a capo Muori Ah sì Ah sì Qui potrei accedere il fuoco Volendo Ma non credo che Ma credo che non si fa niente Poi Dov'è che si va? Non lo so Non mi ricordo più Credo che si va da quella parte Va bene Cioè Proprio non ricordavo Da che parte si andasse La cosa che siamo avanti Alla fine Ok ragazzi Un altro video breve Finisce qui Vabbè C'è uno che sta lì Ma io ne ho neanche Macco uno Racconto Come si creavano le uova? Uno vino Un ciotto Scusate Una strada di gabiro Super capire Vabbè Vabbè Ragazzi Eh Vabbè Ragazzi Ci Siamo qui Alla prossima Dove faremo il prossimo livello Ciao Ciao